Parte, diciamo, di rapporto con il governo Draghi, perché si capisce il grande orientamento sul lato sinistro, non è stata neanche nominata i centristi come interlocutori da Sandra Zampa, quindi diciamo sul lato sinistro, ma può migliorare Enrico Letta anche il rapporto del PD con il governo Draghi, perché una fetta di questo partito sembra proprio soffrirlo, rimpiangere Conte. Io penso di sì, perché vedete una caratteristica del governo Draghi, anche il patto con i sindacati lo dimostra, è che Draghi è una persona portata all'ascolto, Enrico Letta è un'altra persona portata all'ascolto. In questa politica italiana che è molto autoreferenziale, lo diceva bene Sandra Zampa, noi abbiamo assistito alla caduta dei governi Prodi perché gli hanno fatti cadere la stessa maggioranza e così è accaduto per lo stesso Enrico Letta, fatto cadere da Renzi. Ecco c'è molta autoreferenzialità, c'è poco ascolto di quello di cui c'è bisogno e quindi i partiti che cosa fanno? Discutono di se stessi e discutono di se stessi al loro interno, discutono contro o a favore degli altri partiti e questo crea quella distanza che ha portato, non dimentichiamoci il paese a passare da una percentuale di voto molto elevata, la più elevata nel mondo, credo una delle più elevate nel mondo, a percentuali che si avvicinano a quelle degli altri. Ecco secondo me Enrico Letta ha lo stesso tipo di atteggiamento di Draghi, Draghi è una persona che ascolta molto, lo dicono tutti quanti quelli che sono stati a colloquio con lui, fa molte domande, Enrico Letta è della stessa pasta, è abituato tra virgolette, scusate se lo dico, a lavorare. Lui è il direttore per esempio di un dipartimento di Saint-Pau a Parigi e quindi quando si sta in strutture che non sono politiche, come possono essere la Banca Centrale Europea, anche se hanno aspetti politici o come può essere un'università, la propensione all'ascolto è fondamentale, altrimenti le strutture non camminano, non funzionano. Ecco se anche questo servisse al Partito Democratico ad ascoltare quello che chiedono i suoi elettori, quello che chiedono i cittadini, secondo me alcune asperità che noi continuamente vediamo e che non comprendiamo, alcune sì, però insomma che cosa differenzi Orlando da Guerini, insomma qualcuno ce lo deve pure spiegare, nel senso che hanno una visione del mondo diverso, non lo so, e se c'è questa visione del mondo diverso ce la dicano, e invece c'è sempre un qualcosa di non detto, e questo quando non c'è il non detto significa che le persone sono molto autoreferenziali e non ascoltano. Ecco secondo me Enrico Letta può entrare in sintonia di più con Draghi, semplicemente in questa modalità, perché molte volte i problemi dell'Italia sono problemi di metodo più che di contenuto, noi sappiamo benissimo quello che dovremmo fare in Italia, peccato che non riusciamo a farlo. Chiaro, allora vado da Veronica.